In località Metaurilia, strada comunale di Ponte Alto non è un'arteria principale della viabilità cittadina, nemmeno una strada centrale del quartiere di Tombaccia da dove inizia o finisce a seconda di dove la si prende. Ma assolutamente è una strada di grande comunicazione e utilizzo, frequentatissima e quotidianamente percorsa più volte dai suoi residenti. Ma le condizioni del manto stradale sono ormai da terzo mondo e asfaltata, sì, ma in tema di buche, per quantità e frequenza non ha nulla da invidiare ad una strada sterrata di campagna nella peggiore delle condizioni. Non ci sono voragini sparse qua e là che con una dovuta manutenzione potrebbero essere chiuse ripristinando così la giusta condizione. Ciò che sorprende percorrendola è che le buche sono tante e frequenti e soprattutto molto ravvicinate tra loro, come se ci fosse stata una grandinata gigante che ha ridotto la strada ad un groviera. I residenti, le tante attività agricole e commerciali della zona, per voce di uno di essi, rivolgono un accorato appello al comune per prendersi carico di questa situazione. Gli abitanti non chiedono altro che poterla percorrere in sicurezza, anche in bicicletta, come molti fanno, o a piedi per passeggiate, che però in queste condizioni più che in un piacere si trasformano in un tormento. Vi servirebbe una strada messa un po' meno? Infatti le donne che sono qui vengono tutte a camminare qui perché noi purtroppo in città non possiamo andare e la usiamo come pista ciclabile a piedi, un po' di tutto. Le buche sono un problema? Sì, se ci possono aiutare questi comunali, se fanno questo servizio, di dare una sistemata a questa strada, perché veramente è un disastro. Devono far loro. La strada comunale della Tombaccia sfocia nella strada statale adriatica, all'incirca poco prima di Metaurilia e per questa ragione, soprattutto in estate, il problema si accentua, dato che la strada viene utilizzata da chi rientra a Fano dal mare come una bretella di collegamento con la rotonda di Ponte Metauro per bypassare l'inavitabile coda che si forma al rientro. Ma soprattutto questo con la strada in queste condizioni non fa altro che peggiorare lo sfaldamento del manto stradale. Più auto, più usura, più buche. Vi sentite un po' abbandonati? No, molto abbandonati, non solo. Poi qui dove siamo adesso, visto che là ci sono gli specchi, si mettono uno specchio perché quelli che vengono da Torretta d'estate, venendo dalla Nazionale, qui la strada che vedete qui, non si vede niente. Arrivi in cima, vengono giù, fanno un disastro. Ci sono stati incidenti? Per il momento uno solo, ma tanti anni fa, per il momento. Però? Perché con le buche che c'è camminano piano, fortunatamente, c'è quello da dire.